Oggi non è? Cosa fai? Pronto al bagno? Oh, che pronto? C'è lo scaldabagno rotto, eh? Oh! Potevi chiamare l'idraulico, no? Non può! Ha un rendezvous con Marelinà! Uffa! Questi casalinghi! Uè, 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 non li cominciamo a prendere una categoria, eh? Più tanto, architetto! Architetto sì, ma sempre donna! Raffino muscolare, eh? E mo? E mo, e mo! E mo, e mo! E mo sapete che vi dico mo? Moplen! Moplen per voi! I vostri nuovi secchi di Moplen non vi affaticano perché sono leggeri, leggerissimi! Moplen è infrangibile, non è rumoroso, non si deforma e resiste al calore fino a 140 gradi! È la nuova materia plastica per la vostra casa! E mo? E mo, e mo! Moplen! Con questo marchio nei migliori negozi! Il Nobel in chimica nel 1963 è stato assegnato a Giulio Natta, direttore dell'Istituto di chimica industriale del Politecnico di Milano e a Carl Ziegler, direttore del Max Planck Institute for Call and Fortune di Mülheim in Germania. Natta come persona era una persona molto semplice. ha ottenuto risultati scientifici di grande livello, ma non se ne è mai vantato. Natta era una persona timida, che viveva per la chimica. Quando ha fatto il servizio militare, lo ha potuto fare a Milano nell'Istituto di chimica generale e faceva esperimenti sull'iprite. L'iprite era un gas utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale e lo provava sulla sua pelle per vedere se funzionava. E ha sempre avuto questa cicatrice sulla pelle, ecco per dire come era legato e appassionato al suo lavoro. Natta guardava al tema della ricerca e un problema lo affrontava se riteneva che potesse portare a qualche cosa di interessante o sul piano scientifico o sul piano pratico. i lavori fatti così per fare semplicemente delle pubblicazioni per lui non avevano nessun interesse. Non solo guidava le ricerche che venivano svolte da noi al Politecnico, ma anche ricerche svolte presso varie sedi del CNR in Italia e anche e soprattutto quello che veniva svolto a Terni presso la società che poi ha sviluppato l'impianto industriale e veniva a riferire a lui i risultati, i nuovi catalizzatori e gli sviluppi industriali. Quindi è sempre stato orientato sia sull'attività scientifica ma direttamente applicata a casa, agli sviluppi industriali. Dal petrolio, il propilene e quindi il polipropilene. Moplen, Meraklon, Merakrin e Moplefan. Tutta una gamma di prodotti che con estrema versatilità si ottengono da un nuovo polimero, la cui scoperta dà prestigio alla scienza e all'industria chimica italiana. Ci possiamo chiedere quali sono stati i motivi alla base di questo successo della chimica italiana. I motivi sono diversi. Primo, l'intuito di Natta, che era certamente un uomo di intuito non comune nel campo chimico naturalmente. L'organizzazione che Natta aveva dato al suo istituto con l'aiuto della Montecatini. Capitò che anche alla Montecatini ci fossero delle persone intelligenti. Uno era l'ingegnere Giustiniani che aveva capito che investendo soldi nella ricerca ci sarebbe stato un ritorno. Questo non so se lo capiscono oggi tutti gli industriali. È stato un caso unico per diverse ragioni. La più importante è che alla Montecatini c'era un personaggio come l'ingegnere Giustiniani che aveva fiducia in queste attività. E al Politecnico c'era un Natta che aveva le sue capacità. La quasi totalità delle ricerche fatte da Natta sono state pagate dalla Montecatini in termini di apparecchiature, di mezzi vari, ma anche di ricercatori che erano lì mandati da noi. Senza questo connubio tra Natta e Giustiniani non sarebbe successo. Alla Montecatini spette il merito di aver valorizzato questa scoperta portandola dal piano scientifico a quello industriale con la realizzazione di imponenti complessi in Italia e all'estero e cedendo inoltre il brevetto di fabbricazione a numerose società straniere. Ogni anno dal 1952-1953 fino al 1960 circa 30 chimici, soprattutto anche qualche ingegnere chimico della Montecatini lavorava nell'Istituto del Natta. E tutti questi chimici, ingegneri chimici, erano giovani di età media, compresa tra 25, 27, 28 anni. Erano tutti chimici laureati in università italiane. Hanno costituito quella che poi è stata chiamata la scuola di Natta. La scuola con la S maiuscola perché ha formato questi ricercatori in un campo nuovo quello della polimerizzazione stereospecifica e il premio Nobel gli è stato conferito non tanto e soltanto perché ha fatto il polipropilene ma perché ha fatto questa scuola. L'Istituto di Natta aveva un numero di ricercatori e una quantità di attrezzature scientifiche un livello di attrezzature scientifiche che erano all'altezza dei migliori istituti esteri nel campo. E soltanto una personalità non solo carismatica ma con notevole competenze in vari di quel settore e poi poteva dirigere questo tipo di lavoro. E Natta era questa persona. Come diceva Natta bisogna avere idee perché capita spesso che il 2%, 3% delle idee che uno ha sia buona. Ma se idee non ci sono siamo a zero. Grazie. 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 Grazie.